Tuomi, noi mettiamo le mani avanti per salvarci al di dietro, signora. Ah, sì? Allora, se ti vuoi salvare il di dietro, esci immediatamente. Al cimenti a calci te lo prendo, screanzato. Basta! Non sopporto più le vostre insinuazioni. Caterina, ma che dici? Di te ci fidiamo. Ah, vi fidate? Sì. E se non ti fidavi che facevi? Mi chiudevi in cassaforte. Sono una donna libera io. Me ne andrò. Anzi, parto subito. Bravissima! Brava! Brava tesoro mio! Partiamo stasera stessa. In continente ce l'andiamo. Eh, no! Lei, signora, può partire quando vuole. Ma Caterina no. Lei non può. Ah, e chi me lo proibisce? Io. Devo preoccuparmi della buona gestazione del nasceturo. Ecco qua. Guardate, il mio avvocato mi ha fatto nominare legalmente curatore al ventre. Leggete, leggete. Ma che?